L'esplosione a 880 metri di profondità in una miniera di carbone a Carvinà, nella Repubblica Ceca. Hanno perso la vita 13 persone, 11 polacchi e 2 cecchi, una decina i feriti. La causa è stata l'eccessiva concentrazione di grisù, una miscela a base di gas metano, tossica e infiammabile. La miniera appartiene al gruppo OKD, controllato dallo Stato. L'incidente è avvenuto giovedì, ma le fiamme non sono state ancora domate. Le operazioni di soccorso procedono a fatica a causa della scarsa visibilità.